Cheesecake al cioccolato e caramello salato Forza, prepariamole insieme! Frullo 180 g di biscotti al cacao Li trasferisco in una ciotola e aggiungo 100 g di burro fuso Mescolo per amalgabare per bene tutti gli ingredienti Trasferisco il composto in uno stampo ricoperto di carta da forno E appiattisco per bene Ripongo un frigorifero per 15-20 minuti Mentre preparo la farcitura Lavoro con le fruste 500 g di filadelfia Aggiungo 300 g di cioccolato fondente fuso e amalgamo per bene Monto 250 g di panna e 100 g di zucchero a velo Ci vorrà qualche minuto Unisco la panna al composto di cioccolato e mescolo dal basso verso l'alto Trasferisco il composto sulla base e livello per bene con la spatola Ripongo un frigorifero mentre preparo il caramello salato Sciolgo a secco 200 g di zucchero Tengo la fiamma bassa e continuo a mescolare fino a farlo sciogliere Ci vorrà qualche minuto Aggiungo 250 g di panna e un cucchiaino di sale Mescolo velocemente per qualche secondo A fuoco spento aggiungo 90 g di burro freddo e lo lascio sciogliere mescolando Frullo tutto e faccio raffreddare completamente Verso il caramello salato sulla torta e ripongo in frigorifero per almeno due ore Aggiungo 250 g di panna e ripongo in frigorifero per almeno due ore